La chiesa di San Francesco d'Assisi La chiesa di San Francesco è attraversata dalle sene che terminano in acroteri che slanciano e raccordano le due parti. Nella parte inferiore le cinque finestre e il portale sono circondati da delicate volute vegetali, mentre nella parte superiore, al centro, nella nicchia, la statua della Madonna Immacolata, con angeli che reggono il ricco drappeggio barocco, mentre all'imitar del marcapiano, a destra San Francesco e a sinistra Sant'Antonio da Palla. Grazie a tutti!